i miei pedali sarebbero da comunque la tipa non sa spiegarsi a cazzo mi hai detto fino a prima che non ce ne erano per mezz'ore speriamo a me girano in coglioni sinceramente per una volta che porto la videocamera l'avevo sbagliata l'avete a posto? si si va in drifting da su e lo faccio da giù e corso prima ok corso prima e poi io non il drifting va lui ma voi non ve lo sto a dire voi non avete il corso prima va bene allora rifacciamo un drifting un'altra parte metà il freno la sua 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 almeno andrete usati in caso di energetico quando entrate in boxe e oggi non si andate a finire le gomme spiegate preventivamente il piede maniera galla vuol dire che non andate a voi se è tirato quindi fate attenzione, non si parate se il caso non è difficile se è incassato nelle gomme non si andate a finire le gomme non si andate a finire le gomme non si andate a finire le gomme alzate le mani e veniamo noi a finire il dentista a finire noi prendiamo la bandiera a scarti là dovete rientrare a finire le gomme al sol qui di nuovo ai boxe non alzandovi finché non lo riusciamo noi perché solo dietro non frena si prende su e si parte le gomme quanti siamo? quando torno qua ai boxe quando torno qua ai boxe se non alzate le gomme 8 si vai si 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 se si 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.